C'è poi un aereo della generazione d'anteguerra che si rivelerà il più longevo di tutti, il Kant 506. Un idrovolante straordinario, in linea dal 1936, che continuerà a volare per il soccorso aereo fino al 1960. 25 anni di carriera, un vero record. Lo vediamo a lavoro negli anni 50, mentre sta per essere messo in acqua nella sua base a Vigna di Valle, sul lago di Bracciano. Le missioni di soccorso concluse dal 506 non si contano. A tratto in salvo naufraghi in tutto il Mediterraneo. È stato l'unica speranza per la gente delle isole quando qualcuno in gravi condizioni andava trasportato in ospedale.